E' qua però non ci stiamo, apri pazienza Si 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 vai tranquillo No ci incartiamo Si vai tranquillo Posso magari dire No bagagliaio, qui c'è il bagagliaio Ah boh, finito Ah è finito Vabbè, aspetta provo di qua Si vai tranquillo Si tanto si vede Si dovrebbe essere qua a Villa Falletto Si, eccola Villa Falletto, eccola lì E poi la mando a una mia compagnia di scuola Che loro sono di qua Ah ok, sei riuscito a fare la cosa? Si si, ho fatto il video del transito Ah ok, bene Adesso va a Costigliole